Siamo nella rotatoria che è stata realizzata dall'amministrazione comunale nei pressi del Codma. Qui convergono molti automezzi, convergono da Rosciano, convergono dalla zona industriale di Bellocchi e tutto il giorno questo punto è molto trafficato e in passato è stato oggetto di diversi incidenti stradali. Da quando l'amministrazione comunale ha realizzato due ingenti opere, una rotatoria più grande ed una più piccola, la situazione si è equilibrata, si è tranquillizzata, è stata introdotta più sicurezza. Questa opera ha comportato un lavoro lungo che ha così costituite due step. Sì, c'è stata una rivisitazione del progetto originale proprio alla luce di quelle che sono state delle dinamiche della nautica che sono modificate e non solo della nautica ma di mezzi di trasporti eccezionali che avevano difficoltà negli accessi ma anche proprio delle stesse persone nella sicurezza di pedoni, di ciclisti, di un fosso di guardia, di tutta quella che era un'attività idraulica, di cordoli che l'hanno delimitata nel suo perimetro e anche nella sua sicurezza. Quindi oggi veramente siamo molto soddisfatti di quello che è l'opera nella sua rifinitura anche di verde perché è stata anche vegetata proprio per migliorarla nella funzionalità tutta, quindi in un apparato che possa essere sostenibile a tutti gli effetti. Un altro rendering che giunge alla fase esecutiva, alla realtà? Sì, proprio di sì. Ovviamente i rendering ci aiutano a spiegare prima che l'opera venga realizzata alla cittadinanza. C'è chi fa anche delle riunie spesso che siamo l'amministrazione del rendering ma vedete giorno dopo giorno ogni rendering diventa realtà. Qui non nascondo una grande soddisfazione. È vero, ormai siamo abituati a vedere questa rotatoria già utilizzata perché ormai le opere non interrompono completamente la viabilità. Qui abbiamo raggiunto il culmine con anche la piantumazione del verde e quindi abbiamo deciso di inaugurarla quando in realtà la rotatoria è già conosciuta da tutti. Però ci piace sottolineare il risultato perché non dimentichiamo che questa era un'arteria pericolosa, tanti gli incidenti, alcune tragedie. È stato sempre un nostro impegno quello di realizzare questa rotatoria, utile per chi vive da queste parti, ma è utile a tutta la città perché è una rotatoria di collegamento, è stata di collegamento tra quartieri popolosi, con la zona industriale, di passaggio da una parte all'altra della città anche con il traffico pesante. Quindi è un'infrastruttura, è un'opera veramente importante, è un'opera che mette in sicurezza e rende più scorrevole anche la percorrenza di queste strade. Quindi è un elemento di soddisfazione, è un altro impegno che ci eravamo presi che è stato realizzato. Siamo giunti ormai quasi alla fine della tornata amministrativa, quindi le opere per quanto riguarda la viabilità si sommano. Ce ne sono altre che in questo momento sono in corso di istruzione. Sono tante le opere, stiamo cantierando, abbiamo quasi tutte appaltate, quasi una cinquantina di milioni di lavori che vedono più settori della nostra città. Fra l'altro in questo periodo hanno ripreso anche le asfaltature per migliorare la qualità delle strade perché ci sono, ricordo che in questi anni abbiamo asfaltato oltre 130 chilometri di strade, ma ovviamente essendo 400 ce ne sono tante altre ancora da fare. Ma stanno partendo anche opere di riqualificazione da parte delle città, interventi in altre zone, in altri quartieri. Insomma, tanti rendering che diventeranno realtà.